Reddit André, vediamoci il Reddit, al massimo Twitter lo vediamo dopo domani, dai, vediamoci un po' il Reddit allora Per l'appunto Per l'appunto Quattro donne che hanno cambiato il mondo, effettivamente cambiato in maniera tutta uguale, identica Vabbè al massimo Twitter lo vediamo dopo raga, facciamo un piccolo stacco, un piccolo spezzone Barbero cosa dici? Ah Barbero decontestualizzato è magia L'uguaglianza, nemmeno per idea, la democrazia, una porcata Le razze sono quello che conta E tra gli esseri umani ci sono le razze che devono dominare, gli ariani, con al vertice i tedeschi E ci sono le razze che devono ubbidire, e ci sono le razze di schiavi, e ci sono le razze che vanno sterminate Oh mio Dio Barbero senza contesto è magia Canti, grazie, mi risalmo, latino, grazie Tutto felice, che sorride Tutto contento Ecco un altro Barbero decontestualizzato E beh Il mio preservativo nel mio portafoglio è dal 2016 Dobbiamo prevedere che forse prima o poi lo useremo Io se l'ho trovato pesante ma stupendo No, non l'ho guardato ancora, sai, grazie per dire Non può essere escluso, anzi È abbastanza probabile, dice qualcuno L'avevamo tutti il preservativo nel portafoglio, tra l'altro da ragazzi Io non so se voi ce l'avete già, ce l'avete ancora, come adolescenti Noi sì Noi l'avevamo tutti Tutti quanti noi avevamo un preservativo nel portafoglio Mai dire mai, metti che, metti che scappava la trombata Ce l'avevi lì Mai dire mai Noi tutti quanti ce l'avevamo nel dubbio nel portafoglio Quindi, mai usato, eh Mai usato, eh, però Nel dubbio lo tenevi lì Copertina, grazie per la sapatina Grazie mille Usato mai Lo tenevi lì, non si può mai sapere Chat meme, studiare studi, 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 sto cazzo Andre è vero Ma come profi? A ovest di Napoli ci sono i campi flegrei Una caldera vulcanica di 15 chilometri Che si sta sollevando di circa 2 centimetri al mese E ci sono decine di terremoti al giorno Ragazzi, speriamo non succeda niente Facciamo le corna Vediamo cosa prevedono gli scienziati Grazie per il giro 9 in diritto in 2 anni Il massimo che hai messo è sempre stato 7 Prima prima volta hai messo 9 Eh Non ho capito, quindi Non ho capito Kit, esatto, però una brutta notizia Kit e mord Che stronzata Questa fu la casa dove visse Napoleone Non tutto l'anno, ma buona parte Questa stronzata la dissi anch'io alla prof di francese Ho fammissima pure io Vorrei farmi la pasta Ma ci vuole troppo tempo anche solo per far bollire l'acqua Fai come faccio io a farne bollire tantissima Poi la metti in dei sacchetti monuso e la congeli Esatto, è vero Effettivamente fai bollire l'acqua Dopo metti l'acqua in dei sacchetti e la congeli Così hai l'acqua bollente sempre pronta ad utilizzare Ha perfettamente senso, sì, ci sta La logica non pecca Andrea sì Mi hanno buttato in mezzo all'ignù E ne sono uscito morto Che stronzata Sì che poi però dopo un po' non si poteva più usare perché con caldo e freddo era più delicato di un cristallo e alla prima chiavata subito viaggio in Messico Sì, sì, ma infatti dopo un po' bisognava buttarlo perché si era sgretolato Tronco, grazie per il nome Quando realizzi che venerdì è il 13 ottobre quest'anno Infatti ragazzi quando facciamo la maratona Venerdì 13 ottobre Quando facciamo la maratona Qualcosa horror la vediamo ve lo dico Qualcosa di horror Magari qualche video di gente che va a cercare dei fantasmi e cagate varie Potrebbe essere alcuna idea L'ho fatta apposta venerdì 13 Parcheggio perfetto Sì, insomma, perfetto Beh, vabbè Senti A modo suo A modo suo la parcheggiata Poi Il fatto è A modo suo bene o male Bene o male la parcheggiata Comunque Va bene o uguale O poi ci si occuperà dopo Piovi le donne Stirpe debole Scherzo Vabbè lo so ovvio che scherzi Prof posso andare in bagno In English Oh mio A provo Guarda Personalmente a provo Perché sta stronzata Lo faceva sempre anche il mio prof di inglese Prof posso andare in bagno In English Shish Can I put out my dick And piss inside the chest In the water Because I need to piss And my cock is exploding Va bene così Va bene Le va bene questa traduzione Sto pubblicità Non può imprigionare le paper Attenzione Che carine C'è il copyright con sta musica Guarda che carina Guarda come scala Ebbè ovvio Noi siamo grandi evasori Non solo fiscali Ma anche proprio Di prigione Naturalmente Siamo tutte state addestrate A fuggire Da eventuali prigioni Che ci tenevano Eh ovvio scusa Fa parte della Carina che volata Fa parte dell'addestramento Base Delle paper armate Questo l'abbiamo già visto O è nuovo? Lo sappiamo È l'ansia Fa Ok questo l'abbiamo già visto Hitler Oh mio dio Che strozzata Ma poi anche lui Scusami che va in palestra così Ciao Andre Ho caricato sul mio canale YouTube La tua reaction al collame di ieri Mi farebbe piacere la vedessi Su Reddit non mi ha fatto caricare nulla Magari se ti va a fine Reddit Cerca su YZLONT Andrea del 1988 E i migliori momenti del collame Guarda non so se lo guardo stasera Però sì sicuramente me la guardo Grazie mille Tulena Grazie mille per i 5 euro E' gentilissimo ovviamente Per il lavoro svolto Va bene Ok Questa cosa è orribile Questa cosa è orribile Va bene Vabbè questo è Come è successo? Vabbè questo è Classico Quando vai a riprendere il tuo gattino Dal veterinario Ma non ti prendi il tuo Che pardo domestico E lo riporti a casa Che ha fatto la punturina Gli hai messo il microchip Allora Simbolo cale ebraico Che stronza Ebraico o genovese Perché in realtà Secondo me anche a Genova Questo è un piatto tipico Però Vabbè è lo stesso Quindi Per restare in tema Non ho capito Questo deriva dal fatto Dello stereotipo Che gli ebrei Sono molto Taccagni Attaccati al denaro E desiderosi Di fare soldi E' uno stereotipo Che esiste Da una vita e mezzo Perché molti ebrei Famosi Volevano fare soldi Eccetera eccetera Un po' come lo stereotipo Che i genovesi Sono tirchi Blah blah E quindi Questa è la presa Per il culo Come scusa? Vabbè non ho capito No con calma Non ho capito un cazzo Allora Ti piace Whipped cream Panna montata Dovrebbe essere Panna montata Dovevo studiare Grazie per l'anno Ma la tiro Credo sia Panna montata Whipped cream Ti piace La panna montata Amplamo Sì Hai trovato la panna Montata nella camera Da letto di tua madre E l'ho mangiata tutta Caro bambino Sborra No 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 Non hai capito Non che ha confuso La sborra Però Se tu trovi Della panna montata In camera Di tua madre Assolutamente La panna montata Dove si mette Per divertirsi Non era solo LA panna Di essere Stata montata Grazie per l'anno Di solito Per divertirsi La panna montata Si mette In determinati punti E Non credo Che Il beccuccio Che tira fuori La panna Non sia In qualche modo Finito A contatto Con Ovunque 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 Vabbè Chi siamo noi Oh Quanto meno Avrà delle storie Da raccontare Questo bambino Dal suo psicanalista Dal suo psicanalista Avrà delle storie Da raccontare Molto interessanti Non aveva la panna Montata in camera E non aveva Dato Sicuramente Potrebbe essere Molto divertente Eh mi ha usato La panna Oh Ci credi Comu Che è incredibile Ci credi Comu Che viviamo In un'epoca assurda Che quando Dici Alla tua No lo dico Finanzata Perché effettivamente Con nomi Non è messo nessuno Di tutto ciò Però Quando dici Di mettere sul pisello La panna montata Ti rispondono Che sono intolleranti Al lattosio Porca puttana Che cazzo Di risposta è Sono intollerante Al lattosio Ti devi mangiare La minchia Non la panna Basta Con questa Queste scuse Che sono scuse Eh Per cortesia Te Non so io Allora mettiamo La nutella No perché poi Mi escono i brufoli Il miele no Perché dopo Mi viene Le moro Eh che cazzo Cosa devo mettere Sul pisello Una carbonara Eh Devo fare Delle fettine Panate Mi devo mettere Una cotoletta Alla milanese Tragg Ci filo il sushi Metto del riso Sulla cappella Non lo so io E che cazzo Tutte queste cose Che hanno adesso E la cioccolata Mi fa uscire i brufoli La zella E la panna Intollerante Che due maroni Ah Vabbè bene niente POV Becchi il pilota laureato Alla Pegaso Signore e signore Il comandante Che vi parla Ancora per poco Perché poi mi farò Un bel pisolino Ok Sto scherzando Stiamo volando Una quota Di circa Diecimila piedi Vedi La temperatura Stiamo volando Quanti diecimila piedi Piedini All'aeroporto All'aeroporto di Catania Fontana Rossa È di circa 28 mila gradi Il cielo è terzo Il clima è 28 mila gradi Cos'è che ha detto 28 mila gradi La temperatura All'aeroporto di Catania Fontana Rossa È di circa 28 mila gradi Il cielo è Mi fa piacere Che la temperatura All'aeroporto Sia di 28 mila gradi Considerando che La temperatura Superficiale È del sole 5 mila gradi Mi fa piacere Mi fa piacere Terzo il clima E quarto La voglia di guardare Un grattacielo Da vicino È tanta Ma niente paura Nonostante la bella giornata Vi segnaliamo Che la nostra compagnia Vi offre un'ampia selezione Di film Adatti per il cedimento Strutturale delle palle Ringrazio per la gentile attenzione E vi auguro Un buon proseguimento Su questo Oh Quante lucine Che succede Se spingo Questo bottone Signore e signore I passeggeri Abbiamo perso La destra Sperando che rimanga Almeno la sinistra Signore e signore L'ho perso Entra Bellissimo Ma io voglio Immediatamente Questo pilota Sul mio aereo Istantaneamente Proprio Bellissimo Però Quanto meno Deve essere emozionante Volare su questo aereo Cos'è che sta roba Io Sono Optimus Prime A tutti gli Autobot E niente Questo meme di Optimus Prime Non passerà mai di moda Direi Rimarrà per sempre Impresso Uomini all'antichità Quando scopro che la terra è tonda Questo l'abbiamo già visto Calcetto per ubriachi In Norvegia Hanno inventato Il calcetto per ubriachi Ma è bellissimo Football Bisogna avere un tasso alcolico Nel sangue di almeno Uno Direi che si vede Il doppio del limite Con cui si può guidare un'automobile Bellissimo Si può giocare al calcio bene Quindi bisogna entrare in campo Avendo tasso uno Si viene controllati E poi E vomitare Ovviamente può capitare qualche incontenizio E poi se per caso si riesce a segnare E non è facile Con quel tasso alcolico Anche perché vedi doppio Vedi due palle Non è facile Con le mani non vale No Anche nel calcio per ubriachi Non si può segnare Con le mani È bellissimo Voglio a funzionarmi a una squadra Ora metti che uno segni Per esempio Con un gol a sorpresa Non è subito convalinato L'arbitro deve controllare Se il tasso alcolico È ancora di uno Ah Se torni sobrio Giustamente Il gol non vale Ci sta Ci sta Lo sta spiegando l'arbitro Era sceso sotto uno Ci vuole Almeno uno Quindi Mi recuperiamo con la vodka Perché se no qua siamo sotto a un limite È annullato E allora devono purtroppo Tutti a bere un tè caldo No Una grappa Per poter rimanere Quello stava cadendo Il campo E segnare Questo è valido Dai non sta in piedi Vediamo se viene convalidato Sì Direi Sì Vedo che esulta Eccolo nel controllo Guardate È talmente ciucco Che Anziché Inspirare Devi soffiare Non devi succhiare Continua a soffiare Dai soffia Soffia Ti voglio bene Grazie per farmi Le serate Sempre bellissime Sei troppo sexy YY Grazie per il circo Guarda di te Grazie L'ho messo abbastanza Sprozza Vedete così E gol arbitro Vale Sì Ma non se ne ha reso conto Non se ne accorgono Gli avversari Che esultano Come se avessero segnato Loro Prendono anche un altro gol E siamo aggiunti addirittura Al gol del 3 a 0 Ma loro Non se la prendono La squadra è qua che beve Ma io voglio troppo questo sport Bellissimo ragazzi Ma io se esisto questo tipo di sport Mi vado immediatamente a giocare a calcio da sbrondo Cioè potrebbe diventare effettivamente Il primo sport Che mi affascina anche a livello pratico Da giocare proprio Zio Reginaldo è l'arbitro assolutamente Ma è bello Voglio il campionato Voglio il campionato in Italia proprio Ti mette le ali? Piano piano Red Bull gives you wings Va bene va bene Non credo intendesse proprio questo La Red Bull Quando parlava di mettere le ali Eh brah Chi siamo noi? Ma chi era? Ah non ne ho idea Non sono esperto quindi Quando i tg italiani vogliono fare un servizio contro i social E devono trovare un aggravante senza senso Cosa Terrorismo internazionale Estorsione Sequestro di persona Collutazione mafiosa Traffico d'armi Fai tu Fai tu Scegli tu la segnalazione Problema non Faccia lei Faccia lei ragioniere Questa stronzata è usata in tantissimi video Per fare un sacco di meme Rebus cattolico Questa non so se l'hai sentito ma è una delle barzellette più belle Va bene Una delle barzellette più Va bene Perché muore il prete Lo devono sostituire Tanti dati c'è il prete di città e il prete di campagna Chi era la tipa? Ah non lo so Una che mi porta appresso da un po' di anni Che rompe sempre le palle Però che si vuole fare Oramai Lei dice di essere la mia ragazza Ma io non ho mai Al colloquio Gli mettono quattro foto sopra il tavolo Una c'è il signore Una il maiale La razza e il pesce Belen Rodriguez Ok Entra il prete di città Mi dica cosa rappresentano queste palle Quello grazie a voi Quello che ha creato il mondo Il maiale si mangia tutto Non si butta via niente La razza e il pesce La moltiplicazione del pane e dei pesci Belen Rodriguez Il diavolo in persona Prego qua andare Le faremo sapere Entra il prete di campagna Ah ok C'è Gesù Un maiale Una razza E beleno Ok No perché Se no non riesco a Mi dica cosa rappresentano Queste quattro foto Questo ci pensano un attimo Fa ho capito Prego Dio Porche Rassa Che stronzanza Che stronzanza Per chi non l'avesse capito Perchè l'ha detto in romagnolo Dio Porco Che razza di figa Perchè c'era il maiale Gesù La razza è Belen Nel dubbio Perchè vedete che alcuno Non capisce il romagnolo L'ha detto molto in dialetto Che stronzanza A me che in romagna Si bestemmia più che in veneto Io ve lo dico In romagna Se non ci siete mai stati Se siete veneti Andateci Vi sentirete a casa In romagna Si bestemmia Quasi come in veneto Ve lo dico Io in romagna Sento più Più bestemmie Che parole Quindi Quello che è in mano Non è un idrante E qui Non c'è un incendio Mica è vecchissimo Questo cartello Dai Cioè Questa qua Lo usavano da me Alle medie Quello che è in mano Non è un idrante E quello che c'è qui Non è un incendio Poi io per dissuadere La bidella Effettivamente ho dato fuoco Al cesso E ho spento Allora Quindi gli armeni I georgiani Cecei Gli azzeri Non si fanno la guerra Tra loro Perchè sono un branco Di sottosviluppati Che abitano sulle montagne E non hanno nient'altro Di meglio da fare Quelli sono gli abruzzesi Che idiota Pizzi Che imbecillo Che pizzi Mi mancava pizzi Quando usava la n-word Tranquillamente Nei video Facevo un sacco ridere Lui per un periodo Ha usato serenamente Continuamente la n-word Per dei concetti Adesso immagino Che non lo faccia più Però facevo un sacco ridere Oh no Signora Chiedovenia Quanti figli Lei ha You're pregnant E il bambino Oh Cristo Dio Un altro No Vi prego Per favore Già mia madre Non mi ricordo più Chi sono io Oh mio Dio Vi prego Signora Complimenti Lui sa che la sua razione di cibo Calerà ancora Signora Complimenti Le piace proprio il cazzo Io ce lo dico Guardi che troia Complimenti alla signora C'ha una passione per il pisello Non indifferente Io devo dire Cioè la signora veramente È nata col pisello in fro Perché cazzo Cioè un amore del genere Raramente lo si vede Poi complimenti anche per la pazienza Perché otto figli Cioè c'è da suicidarsi Quindi Complottista spende Ventimila dollari Per provare che la terra è piatta Ma dimostra il contrario Sì questa storia Ve l'avevo già raccontata Tra l'altro Questa storia tra l'altro Ve l'avevo anche già raccontata Ve la sapevo Però ovviamente Come le avevo già anche raccontato Il tizio disse Che c'erano dei poteri celesti Che interferivano con l'esperimento Bla 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 Perché tanto questa gente Anche davanti alle prove evidenti Non è capace di cambiare idea Perché sono dei cerebrolesi Quindi Io senza parole Avere due papà Oh sì Due bei maschioni Tutti per me Facciamo Un bel trenino Io sto in mezzo Ah Ed è di chill Ah Ah sì Funzionano così Questi quiz Dopo li ricordavo proprio così Però Voglio dire Vabbè Why not D'altro canto Why not Scusami Voglio dire Sei due bei padri Che sono due bei maschioni E via Dai Tanto voglio dire Cioè alla fine Non è incesto Perché l'hanno adottato Quindi sì È loro figlio Ma non biologico Perché voi Why not Divertiamoci in casa Tutti insieme Perché no Almeno sanno come passare Il sabato sera Con questo Ah questo lo conoscevo L'abbiamo già visto La perfezione In questa nave di pirati Noi siamo capitati Cercando quel tesoro Che si chiama One Beast E in mezzo al mare azzurro e grigio Sale questo grido Ciurma Andiamo tutti All'arrembaggio Ok Farò finta di non aver visto Quello che appena visto Travis Grazie a me 13 Matino Ce lo vedo Gold Roger Che prima di essere ammazzato Sul patibolo Dice Man Il One Piece esiste E mo ci ripigliamo Tutto Chille Nostra Amore Sono in live Cosa rispondo Aspetta Dopo ci guardo E ti rispondo Dio Dio Santissimo L'esercito è una cosa seria Incontriamo i militari Della BRICS Mi dico la verità Il Brasile me l'aspettavo Il Brasile me l'aspettavo La mossa molto drag queen Normali Bellissimo Queste cose sono epiche Sono commosso Sono d'accordo Io sono d'accordo Assolutamente Vedi che accorrono Vedi come accorrono Vedi le mucche hanno capito il loro profeta Guarda le mucche Guarda le mucche che guardano Sembra che stia buccendo Guarda 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 Sono commosso Credo che un discorso così profondo Raramente sia stato udito da orecchio umano Sono veramente Non ho mai visto così tante costate Tutte insieme Eh ma era lì che stavano partecipando Voglio dire È comunque un discorso più sensato Di quello della Shlade Nel dubbio Per dire Però Devo dire che comunque Ha fatto un discorso bellissimo Sono assolutamente d'accordo Sì vabbè ma che cazzo Ma è tutto È tutto un rutto Oggi È tutto un rutto Oggi Borgadroia No questa è la pubblicità Le persone non famose Non ragionano come te Genio Genio Sì 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 Dio santo Che faccia da triglia Che ha questo uomo Porca muttana Sì Allora tu Hai rotto il ca... Io lo sai che ti ho bloccato su Instagram Vabbè ma quello direi che è la base Nel senso Cioè di solito gli stalker Molestatori vanno bloccati Eh però No non me ne sono accorto Bene Ora lo sai Io ti ho dovuto bloccare su Instagram Perché mi rompevano il cazzo da morire Le storie in cui mi taggavi Cinque storie al giorno Che non capivo il senso Fai tranquilla vecchia mia Io ci ho fatto due live E l'intera live Io non ho capito il senso Quindi Non credo che effettivamente Le storie siano diverse Dalla live Ti capisco Sono con te sorella Vai tranquilla È una cosa che accomuna Un po' tutti in realtà Ma il senso Ma infatti non c'era senso Infatti non c'era senso È che io voglio invadere L'Austria e la Tunisia Per rendere più lunga l'Italia Cioè ha senso Sono uno sconosciuto Voi siete famosi Siete amici di Granbad Che è uno che mi conosce Volevo un po' Tentare di avere amici famosi Tutto qua Volevo farmi conoscere Tutto la gente famosa Ma che cazzo vuol dire? In una maniera un po' strana Ma che cazzo vuol dire? Genio Voi non potete capire Come ragione Uno non famoso Ma cosa vuol dire? Voi non potete capire Come ragiona uno non famoso Perché giustamente Le persone nascono famose Non è che lo diventano Le persone nascono famose Se tu nasci E sei già un influencer Non è che tutta la tua vita Prima di sfondare in qualcosa Eri una persona comune Siamo alieni Siamo alieni Capito? Cioè abbiamo una struttura cerebrale Completamente diversa Va bene Ma scusami Io ho fatto i giacqualdi Avevo sei mesi Ero lì davanti allo schermo A fare Cucu caca Cucu caca Spaventata Di conseguenza Tra l'altro Io continuo a dire Lui sbaglia Non va spaventata così La selvaggina La selvaggina la devi spaventare Per chiuderla in un angolo Per poi predarla Cioè Come ho già detto altre volte Noi uomini d'estate Ci raduniamo attorno a un falò In mutande Con dei bastoni Cominciamo a fare Fica 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 Sbattendo i bastoni Sollevando la polvere Quando la polvere si solleva Mandiamo messaggi di sabbia Agli altri maschi Per dire che la stagione di caccia È aperta Poi cominciamo a rincorrere Dietro le fiche Le chiudiamo in un angolo Così dopo Voglio dire Possiamo sequestrare Sì più o meno è così Che funziona È una cosa un po' complessa È tutta una struttura Dietro sociale Articolare Però bene o male Ma quello è il sistema corretto Capito così È normale che Andrea ma che Ho molta paura Di quello che salta da fuori Nicole grazie per i sedici Panatino O Panatino Oh 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 Questo sì Perché stavo finendo di trombare L'altro giorno Però Stava partendo la live Quindi ho dovuto far velocemente Buona Si Vedi qua Mi stavo sistemando le mani Avevo le mani Sborrate Andrea smettila di svelare i nostri metodi di caccia Sono segreti Volevo fare un trisom Insieme a Maria Sofia E genio matematico No guarda piuttosto la morte ti ringrazio Sei dolcissimo aver avuto questo pensiero Piuttosto l'eutanasia Piuttosto credo che mi lancio da un palazzo di 10 metri E pongo fine alla mia esistenza Credo che sia da preferirsi Ma comunque nel dubbio No beh beh dico per dire Eh no perché metto in chiaro Fin dove sarei disposto a portare avanti questa Nel dubbio Tony da Milano Scusa un attimo com'è la cazzocina quella là Ma quanto è stato bello alzarci la mattina Vedere la Russia che bombarda l'Ucraina Il nostro sogno semplice degli arci di mattino Vedere la casa bianca bombardata da Pechino Ma che cazzo è sta roba scusami A parte il fatto che questa qui è palesemente una modifica A quella canzone che è palesemente una modifica Alla canzone che diceva Com'è stato bello alzarsi la mattina Vedere l'America che bombarda la Cina E io mi... Com'è che facciamo aspetta? Che nessun si offenda Questo è omorismo Ma oggi come sempre Morta il comunismo Però va bene anche la versione così L'accetto L'accetto anche L'accetto anche in versione così Carina Però mi dice Naturalmente noi nel dubbio ci dissociamo Perché Naturalmente noi ci dissociamo perché Il braccio era così Non così Quello è Però devo ammettere una cosa Devo ammettere che Cruciani ha un'abilità incredibile Nell'invitare gente Cioè Cruciani è quasi più bravo Di Grimbaud a invitare casi umani Quasi più bravo Guarda No Grimbaud lo batte Grimbaud lo batte Però Devo ammettere che Cruciani ha un'abilità incredibile Nell'invitare casi umani Poi naturalmente No Questa è una premessa che devo fare Signore di Twitch Naturalmente si sta scherzando Speriamo che nessuno bombardi nessuno Speriamo che nessuno muoia Speriamo che tutta questa situazione Si risolva con una stretta di mano No la devo fare la premessa Perché non si sa mai che Twitch dice C'è questo qua che canta Bombardiamo l'America Bombardiamo E' una canzone Naturalmente Metto le mani avanti Speriamo che nessuno bombardi nessuno Pace nel mondo sempre Auguriamoci che non scoppi nessun'altra guerra Cos'è sta roba? No man No man Mi bombo Più che mi bombo Mi fa ridere la mira Zio La mira Cioè Porca troia Che mira Straordinà Cioè Io col cazzo che terrei un chiodo Se tu dovessi Andrò col cazzo Voglio dire Andrea Pacifista Ci mancherebbe altro Perché qua qualcuno A favore della guerra Scusate Scusate Qua c'è qualcuno Che vorrebbe la guerra Scusate Sai com'è? Credo che l'intelletto umano Debba essere messo al servizio Del benessere Della tecnologia Però E' che sono un liberale di merda Capito? Allora Ho questi pensieri Da liberale di merda E credo che L'umanità Dovrebbe concentrarsi Su creare tecnologie Per rendere la vita migliore Però Capisco questi strani pensieri Da pazzo Che ho io Capisco eh Ci sono anche quelli che dicono No dobbiamo creare Bombe atomiche Più grosse Lo capisco perfettamente Vabbè Vabbè Veni A barata Jusuki Rigashikata E' una rappresentazione Realistica Del mio cazzo Appena sveglio Chiedo eh Nel dubbio Cosa Comunque Questo si Questo più o meno E' quello che succede Al pisello degli uomini Appena svegli la mattina E' quello che succede Nel dubbio Però E' gone No Non è gone Gone Per quanto sia fighissimo E comunque Non è Non arriva Questa è una perfetta rappresentazione Del tuo pisello la mattina No no Non è gone E' il tuo pisello la mattina Che poi Arriva sempre lì La ragazza Tutta contenta E tu ti stai appisciando addosso Non riusciresti a trombare Neanche pregando Cioè Voglio dire Non posso Non posso Cioè Non ce la fai Non ce la fai Anche se poi arriva la fidanzata Tutta contenta Tu non riesci a trombare Perché c'hai un dolore incredibile Sì è nero perché è in cancrena oramai Voglio dire Cioè devi pisciare talmente tanto Io faccio un complimento a una ragazza Lei lo so Ti prometto Il destro a 50 che gli arriva nel crato Oh mio dio Che violenza No scusa No Non credo Non credo Non credo di aver visto bene Ladies Signorine Sedetevi Oh eh Oh eh Può essere un metodo alternativo Per passare un allegro sabato sera Vabbè Voglio dire Ci sta Ci sta Ci sta Spero che non caghi Però Ci sta Può essere un sistema divertente Per passare il sabato sera Voglio dire Ma poi scusate La faccia del tipo Subito dopo La faccia del tipo Confuso Cosa ho visto Cosa ho appena visto Scusate Cosplay Vabbè E' comunque un cosplay E' comunque un cosplay Nel dubbio E' un cosplay particolare Però E' comunque un cosplay Voglio dire Oh Ci sta E' un cosplay particolare Però Prima della sub Dopo la sub Assolutamente Questo è ovvio Questo è normale Ma che cazzo Che cazzo sta succedendo Questa è Maria Sofia In manicomio Dopo che l'hanno arrestata Passa il tempo così Bellissimo Lo sai perché Ti ho tirato fuori Perché sono nero Che feci Ha detto Lo sai perché L'ho fermata E lui Perché sono nero E il poliziotto No Perché sua moglie E' volata fuori Dalla macchina Circa un chilometro fa E lui si gira e fa Ah ecco perché C'era così silenzio Una perfetta reazione Quando un poliziotto Ti dice che tua moglie È volata fuori Dall'auto Queste sono persone Che chiaramente Si amano un sacco Perché Queste sono persone Che si amano un sacco Ed è lo stesso rapporto Che avrò anch'io Con Naomi Quando sarò vecchio Assolutamente Io gli ho già detto Io e Naomi Gli ho detto Io e te saremmo come Sandra Tra Raimondo E Sandra Mondaini Assolutamente Perché Raimondo Era fantastico Ragazzi Io non so se Sta cosa ve l'ho già raccontata Può essere Però ve la ridico Quando invitarono Raimondo Mike Buongiorno E Corrado A una trasmissione Da Costanzo Raimondo Si faceva mettere Davanti a sé Un intero pubblico Di ragazze giovani In minigonna E quando Costanzo Gli disse Ma perché hai scelto Questo pubblico Raimondo E lui Eh perché so che Sandra ci sta guardando Da casa Era una testa Di cazzo Incredibile Però facciamo Rire da ridere Scari Era un bichione Sì sì Veramente La trovi L'intervista C'è anche su YouTube Però Si amavano tantissimo Si amavano veramente Tantissimo Che poi Raimondo Era proprio stronzo A me faceva ridere Aveva quell'umorismo Aveva quell'umorismo Che mi ha anche Influenzato Tra l'altro Lui raccontava Diceva Raimondo Io volevo Fare un programma Tipo C'è posta per te Però al contrario Tipo diceva che Inviti la gente Li facevi Ah è lei Che ci ha chiamato Perché voleva sapere Se Di rivedere Il suo cugino Che non vedeva Da 40 anni E voleva fargli sapere Che dietro a quella busta No non c'è Non c'è È morto È morto Era proprio Scemo Era proprio Scemo Ma lo faceva Morito a ridere E vabbè Lui aveva proprio L'umorismo cattivo Infatti mi faceva Troppo sbragare Quando il pilota Il pilota Quando il pilota Da combattimento Quando il pilota Da combattimento Di caccia Diventa un pilota Di linee Sì Piano Sì Ma che cazzo I passeggeri Vobitan La luce È piano Sì Vabbò Eh Cos'è Sì Vabbè Oh Un volo su quest'aereo Me lo farei Effettivamente Sai la brezza Di andare Tipo A testa in giù Però È divertente Però secondo me I passeggeri Vobitan In un attimo Perché Non sono proprio Abituati a essere Sciccherati Così Eh Ma comunque Tua madre Tu che hai messo Un ovetto kinder Nel carrello E ora siete Alla cassa Sì 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 Confermo Cosa fatta E rifatta Tantissime volte Anche se Non sempre Lo comprava Però Delle volte Lo imboscavi Quindi Se mio figlio Lo farà Questa cosa qui Glielo comprerò Ma poi me lo mangio io Traumi infantili Ma dai Eh lo so Ma io penso che Molesterò Io penso che Romperò tantissimo Le balle a mio figlio Se è maschio Se è maschio Se è femmina No Se è femmina Non posso Perché se è femmina È una femminuccia E la mia figlia femmina La devo viziare Per forza Se invece è maschio Gli rompo i coglioni Tantissimo Lo devo addestrare Lo devo addestrare Perché quando si fidanzerà Avrà la moglie Che gli romperà i coglioni Quindi Lo devo addestrare Già da bambino Ad avere una futura donna Rompi i coglioni Quindi Nel dubbio Invece se è femmina No Se è femmina La devo viziare Un sacco Perché Sarà la mia bimba Quindi va viziata Per forza In quanto femmina Anche perché Se è femmina Sono sicuro Che litigherà Continuamente Con Naomi Quindi Sicuro proprio Anche a trent'anni La trent'anni Spero si sia Già fatta una vita Trovata un buon uomo Con cui andare Levata dai coglioni Però Voglio dire Questa è la pubblicità Stesso vale Per Dota 2 Avere il potere Di dare il cancro Avere il potere Di curare il cancro Direi Direi curarlo a tutti Perché non Ecco Sai che in effetti Pensandoci un attimo Sai che in effetti Riflettendoci un attimo Potrei anche Comprendere il perché Il rosso Possa essere Un'opzione No perché Sì Io non gioco a LOL Io gioco a Dota Ma la community Quella è Quindi No vabbè Non sceglierei mai il rosso Dico solo che Comprendo Il momento Di pensiero Che sta dietro All'analisi Di questa Di questa scelta Niente di Guarda fino alla fine Mi sono cagato Tantissimo In mano Non ho fatto una mossa Mi son cagato Tantissimo In mano Dio santissimo Questa l'avevo visto Ma perché i gatti Sono dei disastri I gatti sono un disa- Che male la testa I gatti sono un disastro Anche Nala mi ha piantato Un'unghia nel mio È stato bellissimo Gli ha dato un coppino Nel naso Gli ha incassato La faccia Nella neve Samuel Grazie per gli undici E' bellissimo E' bellissimo Anche io ho fatto una volta Lo stronzo Con Nala Che stava bevendo Gli ho spinto la testa Nell'acqua Ho fatto Tutta l'acqua Anche io ho fatto Il molesto Ho fatto proprio La scimmia Che vedi Un gatto bere Ho lasciato andare I miei pensieri Intrusivi Non ce l'ho fatta Ho lasciato andare I miei pensieri Intrusivi Ho fatto E con il naso dentro Una volta Una volta L'ho fatto Il massimo che faccio E' ficcargli un dito In bocca Quando sbadiglia Quello è il massimo Gli fico un dito In bocca Quando sbadiglia Lei A parte quello Niente di più Cos'era No questo vomita No questo vomita No questo vomita Poi sentite Nala bullizzata Sto cazzo Il giorno che Nala Smetterà La notte Di venirmi a fare La pasta Sulle palle Io smetterò Di ficcarle Il dito Nell'esofago Va bene Perché anche lei Anche lei Ci mette nel suo Io ho capito Che è una gatta femmina Quindi attratta Dai miei testicoli Però siccome ogni notte Viene a farmi la pasta Sui coglioni Cioè allora Lei che a lei Si perdona tutto A me niente Voglio dire Quindi Voglio dire E' un qui pro quo Di moleste I gatti sono bulli Eh ma io sono più molesto Di un gatto Quindi voglio dire Tra l'altro Abbiamo Ho rischiato L'altro giorno Gli e Nala Abbiamo rischiato una rissa Perché Nala Non vuole farsi tagliare le unghie Come prova a tagliare le unghie Si incazza Solo che io ieri Volevo provare a tagliarle Perché oramai C'ha gli artigli di Wolverine Quindi Io gli prendo la zampina Tiro fuori l'unghia Per cercare di tagliargela Lei Prende l'altra mano L'altra tampa Tira fuori le unghie E me le appoggia Sulla mia mano Quindi c'ero io Con le mani così Lei ha appoggiato La sua altra mano Con le unghie fuori Sulla mia mano Come per dire Se tagli l'unghia Ti squarto un braccio A quel punto Io le ho messo il pugno Così davanti al naso Le ho detto Se provi a graffiarmi Ti arriva una cartella Nel naso Che diventi un cocker Quindi ora Come la mettiamo Siamo in una situazione Di stallo alla messicana Feder grazie per i treci Ma Dio grazie Tu graffiami E io ti tiro un cazzotto Nel naso Vedi tu cosa fa Allora alla fine Abbiamo stabilito Abbiamo detto Senti Io ora appoggio Il tagliaunghie Molto con calma E tu lentamente Togli la Gli parlavo Capito Lei non stava capendo Io gli parlavo Come ha visto Che ho posato Il tagliaunghie Le ho tolto La sua mano Dalla mia E lì E' finita E' finita In neutralità La cosa Però Sta lì fatto Che non riesco ancora A tagliarle le unghie Quindi Uguale E' un'auto ingolfata Un'auto ingolfata Cazzo è tantissimo Un'auto ingolfata Scusate Mi è venuto La live su YouTube Sì sì Questa qui sì Cicciola paranoia Come scusi Non ho capito Potrebbe ripetere Va bene Accettabile Però ti accalmo Per favore Mi sembra un po' esagerato Una cosa del genere Da dire Così su due piedi Andrea che fa la doccia Su The Sims Mi hai fatto nudo Su The Sims Che mi faccio la doccia Sì Non ho un box doccia Così bello In effetti Sarò sincero Non ho un box doccia Così bello Effettivamente Però Reiki Grazie mille Grazie mille Mi inquieta il fatto Che tu mi abbia creato Per farmi nudo E farmi lavare Però Capisco perfettamente Almeno mi fai lavare Quindi Quando ho provato A giocare a The Sims È stato un disastro Voglio dire Inizialmente era un disastro Spaccavo tutto La cucina Si rompeva Il bagno perdeva Era un disastro Giocare a The Sims Fino a quando Ho sbloccato Certe abilità Era tutto un casino Di merda Non si capiva Un cazzo Madolla E poi tra l'altro È bello Perché in The Sims Facevo tutto quello Che dovrei fare Nella vita reale Ma non lo faccio In The Sims Io mangiavo sano Facevo attività fisica Mi vestivo bene Facevo tutto quello Che non faccio Nella vita reale Facevo tutto quello Che dovrei Fare Nella vita reale Quando io e Naomi Abbiamo fatto un bambino In The Sims La bambina Era tipo Una tricheca L'ho cominciato A far correre Da mattina a sera Per farla dimagrire Un botto Per tutto quello Che dovrei fare È la vita reale Non lo faccio Assolutamente La classe fa casino La prof Adesso chiamo Il preside Come la mettiamo Destinazione Io a 90 La preside Scusa La preside Che stronzata Io quando mi lanciano Un bigliettino In verifica Sì che poi Farsi sgammare Senza lanciare i bigliettini Era impegnativo Era un attimo Che la prof Sentiva quel rumore Di carta Alzava la testa E dopo Era un bordello Rischioso Era meglio Farsi dare le risposte Piuttosto che far Lacciarsi i bigliettini Anche se qualche volta L'ho fatto I rifletti Però Speciale scuola Chiara Grazie per il senso Noi di livello sappiamo L'estratto conto Ah ok Questo è nuovo L'estratto conto Non lo ricordo A farvi entrare Questa settimana Speciale scuola Tè alla pesca Che sa di limone E tè di limone Che sa di pesca A 1,99 euro Ferma Porta a forma di dizionario Italiano greco antico A 99 centesimi Bello lo voglio Bello mi piace Zaino dei nostri eroi preferiti Anche in versione Paracetamolo E gatto miau A 2 euro Paracetamolo A 1 euro e 99 Il catamarano SUV Per mamme Che accompagnano I figli a scuola Anche in comoda Versione traghetto Genova-Alguero A 1 euro e 999 Deider Anche no Vabbè ma questa è una cosa Più americana E' più in America Che le mamme Prendono i SUV Di 400 tonnellate Intasando il traffico Per portare i figli A scuola In Italia Che cazzo Anche noi Io non ho mai visto La mamma con un SUV Vabbè Chi cazzo se lo compra Cioè Sono quelli che hanno I soldi Io quando ero cino Avevamo una Station Wagon Una Citroen C3 No Una Citroen verde Tutta scassata Che era un miracolo Che andasse avanti Quindi voglio dire Questo l'abbiamo già visto Però me lo rivedo Quello che spauna Che spauna dal cielo volando E' tornato in lobby Come diceva l'altra volta E' rispaunato in lobby Bellissimo Che faccia di merda Che faccia di merda Di animale Nala non fa proprio così Nala non fa le coccole Nala si siede e ti fissa Nala è tipo la mafia Nala quando sei a tavola E mangi il pollo Lei non viene lì A farti le coccole Magari No Lei si siede sulla tavola E ti fissa Come per dire La mafia Capito Mi devi dare un pezzo Di quello che stai mangiando E' tipo il pizzo Altrimenti ti cago nel letto Capito E' tipo ricatto morale Ti giudica Ti guarda male E' praticamente E' mafiosa Nala Madonna che schifo Dio ma che cazzo Di schifo Di merda Di schifo Di merda Cioè Tieni un coltello Tra le dita Di piedi E tagli la carne Ma che schifo è Zio ma che cazzo E' sta merda Ma le norme igieniche No quelle che cazzo Ce ne frega A noi Le norme Il coltello Sono le unghie Ma no raga C'è una lama C'è una lama Tra le dita Che schifo Madonna mia Porca troia Madonna Ti mangi Ti mangi Usa le unghie Ragazzi ma che cazzo Dite Ma no raga E' qua E' qui C'è la lama Raga C'è la lama E' qua Non riesco a far Non riesco mai a mettere E' c'è la lama E' qua Non vedi l'ombra C'è la lama Raga Non vedi che c'è una lama No no Tiene un coltello Ragazzi Si vede può Si Non è che poi Non è che poi in realtà La carne non vada a contatto Con i piedi C'è la lama Sì ma che schifo Quale Cioè voglio dire Non è che Cambi più di tanto Il discorso Cioè Cos'è sta roba Idee per Instagram Come sempre devo ingrandire Per il bene Della chat Andrea E' bello andare Ma è più bello venire Sì questa è proprio La mia tipica espressione Che sto venendo Faccio così Di solito Faccio così Gli occhi mi si rivaltano E buoio Quando noti qualcosa Nei pantaloni di lei Questo è sospetto Ci sono quelle ragazze Che si mettono i jeans Si mettono i pantaloni Hanno uno strano rigonfiamento E tu sei lì che È alta 1,70 C'è qualcosa lì sotto Che forse non dovrebbe essere Linguetta sexy Durante la prima ora di scuola No Durante ogni ora della giornata Cioè questa letteralmente Sono io Durante ogni ora della giornata Non c'è un'ora della giornata In cui non sono così Io letteralmente Ma non avevi la febbre Va che ti riporta a scuola Sì questa è tantissimo Tua madre Tantissimo tua madre Guarda i muscoli Femmina Giustamente Sistema di rimorchio base Quando sei a scuola Ma non lo hai ancora capito Io tutte le mattine Che andavo a scuola Sì Tutte le mattine Che non capivo neanche Che cazzo stessi facendo Tra l'altro La tua ragazza È il siglo E ti fingi morto Giusto Un po' come Fingerti morto Ogni volta che ti fanno Domande assurde Tipo questo vestito Mi ingrassa Fin del dubbio Fingiti morto Fingiti svenuto Così eviti completamente Il problema Eviti completamente Oh ragazzi Voi ridete scherzate Ma Queste sono cose serie Cioè io Un mese fa Sono andato da Primark Con Naomi E no mi prendeva i vestiti Se li andava a provare Tornava indietro Vedeva un vestito In un colore diverso Della stessa taglia Ma lo doveva provare Perché doveva vedere Come gli stava addosso Tenata dal spogliatoio È uscita Ha visto un altro vestito Di una taglia diversa Ma un colore simile Insomma Avanti e indietro Avanti e indietro Io l'aspettavo fuori Dello spogliatoio C'era un ragazzo Lì seduto così Questo vestito Mi ingrassa Arrivo C'era un ragazzo Lì seduto così Anche lui aveva la fidanzata Io la guardo e gli faccio Anche tu qui Con la fidanzata Lui Sì Ti sono vicino bro Ti sono vicino Si è messo a rire Sono con te fratello Risposta Non devi mica mangiarlo No no Ogni risposta è sbagliata Ogni risposta è sbagliata Grazie per il giro Grazie per entrambi in giro Ogni risposta è sbagliata Perché se dici che di sì Sei uno stronzo Se dici di no Stai mentendo Quindi sei uno stronzo Non c'è Non c'è una risposta giusta Quindi Fingiti morte Quando l'ello Ha più grande del tuo Vabbè Non è che ci voglia tanto Più grande di 4 nanometri La ragazza ti dà il culo Sì Questa è l'espressione giusta Effettivamente Questa è l'espressione giusta Quando lei ti dà il culo Sì Si vede proprio la gioia La felicità La sorpresa Questo è corretto Figliolo Ricordati di innaffiare il cane Dare da mangiare a letto E rifare le piante Questo sono io La mattina Che do istruzioni Di cose da fare Che poi Questa è una cosa biologica Perché Purtroppo Le donne Su questo punto di vista Hanno un cervello Molto più reattivo In certi sensi Cioè Gli uomini Hanno un cervello Che funziona bene Ma parte come Windows 98 Capito Questo è il problema È straordinario Perché le donne A livello cerebrale Hanno la capacità Di aprire gli occhi Bere un caffè Ed essere dopo 10 minuti Sono già attive E parlano un sacco Noi uomini Siamo più Windows 95 Cioè Nel senso Io apro gli occhi Bevo il caffè Vado al cesso Comincio a cagare Guardando il cellulare Io ancora non so Cosa sta succedendo Io non so neanche Dove sono in questo momento Io non so neanche Cosa succede Quindi No Mi parte e mi parla Ma ti sei svegliato Perché non mi ascolti Io Ti ascolto Dimmi 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 E lei comincia a parlare Io dopo mezz'ora Non ho ancora capito Dove sono Quindi Lei ma mi stai ascoltando Io Sì 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 Assolutamente Noi abbiamo Un risveglio Vattutino Incredibilmente Da bradipo Guarda il pistolone Assolutamente E serve per entrambe Le cose Sia sequestro Che minacce Acqua del ruminetto Rende GAY Questa sembra più La mia faccia Dire il vero Assonnato GAY Però Quando incontri La prof al supermercato Ma che cazzo dici No Io ci facevo Un sacco di gag E quando incontravo La prof al supermercato Facevo un sacco di gag Dicevo un sacco di stronzate La guardavo Dicevo Prof stasera Vado a sbronzarmi Un sacco di cagate Con la prof al supermercato Mi hai avuto altre fidanzate Sì Ho avuto una ex Però non entro nel dettaglio Per rispetto della privacy E per evitare querele Però sì Andrea Quando la ragazza è pelosa No che schifo Per l'amor del cielo No no Se volevo finanzarmi Con una mochetta Davo in un negozio persiano No che schifo E poi Non so io Abbiamo finito E che cazzo Mi sta risalendo Pasqua del 94 E non so io E che cazzo Che cazzo è E ho lo stomaco Di un avvoltoio Se vuoi ti faccio Quello che vuoi Se vuoi ti faccio Quello che vuoi Con questa faccia Oddio Santissima Che rino Ripiccioliamo Torniamo a 100 Non so come descriverlo Vediamo Era il programma elettorale Di Umberto Bossi Della Lega Nord Ma tu di che anno sei Guarda Potrebbe sembrarti assurdo Ma sono dell'88 Lo so Potresti pensare Che il mio nickname Sia un riferimento A un anno casuale Randomico Della mia vita O dell'esistenza Dell'essere umano Ma in realtà È l'anno in cui sono nato Te lo giuro E mi chiamo Andrea del 1988 Mi chiamo Il mio nickname è quello Perché il mio nome e cognome Inizialmente Era stato bannato Su TikTok Se no Mi sarei chiamato Nome e cognome Ma siccome a TikTok Se hai un cognome Che contiene la N word Pensa che sei un membro Del Ku Klux Klan Appunto evitare problemi Mi sono chiamato Del 1988 Però avrei messo anche Il mio cognome Senza problemi Dedica la fidanzata Guarda ti voglio bene È una canzone bellissima Mi stanno scopiando le orecchie Chiedo umilmente pietà Non credo che finirò questo video Perché i miei testicoli Stanno deflagrando In pezzi tipo puzzle Quindi voglio dire Cioè Grazie mille Per questa bellissima Dedica Filosofo di oggi Gli animali hanno I nostri stessi diritti Filosofi antichi La schiavitù è giusta Perché alcuni sono troppo stupidi I filosofi Una strana specie Ne ho conosciuti tanti Di filosofi E con la metà Ci ho discusso In maniera pacifica Però Sono davvero Una strana specie Giuseppe Grazie per i cinque Paratino Sapete che una ragazza Non era mia amica Però Chiacchierando Mi ha raccontato Che lei Si è portata a letto Un tizio che studiava Un tizio che studiava Filosofia Non sto dicendo Che tutti i filosofi Sono come quelli Sono come quello Di cui vi sto per raccontare Allora diceva Sì era un filosofo Particolarmente intelligente Io già Avevo da disquisire In realtà Perché intelligente Acculturato Intelligenza e cultura Sono due cose diverse E proprio Praticamente Diceva che Quando Lei stava scopando Con questo filosofo A certo punto Lui Si è fermato Allora Lei tipo Tutto bene? Tutto a posto? Ictus embolia? E la sua risposta è stata No è che L'attesa del piacere È il piacere stesso Guarda Guarda tesoro Se posso Se posso darti Un suggerimento Magamente Magari Scoprati un fisico Che il massimo Che ti può dire È Ti sfondo la figa Più del Big Bang Durante l'inflazione Secondo me Secondo me Conviene Però Ho un'informatica Ti formato l'utero Nel senso Però I filosofi Non siamo tutti così Lo so Lo so che non siete tutti così Ho avuto tantissime Bellissime discussioni Con i filosofi In merito a tantissime cose È molto divertente Solo che io la filosofia Proprio non ci azzecchiamo niente Manta Grazie Bricic Buonattino Grazie Brissab Io la filosofia Proprio non ci azzecchiamo nulla Però Mi piace Mi piace la filosofia Sia chiaro Però Nel senso Io la filosofia Proprio facciamo a cazzotti Perché la filosofia Ha ragione su determinati Cose Finivamo sempre a discutere Capito Era il classico discorso Se un albero cade in una foresta Nessuno l'ascolta Ha fatto rumore Sì Sì l'ha fatto Sì Puto Non c'ho cazzo da pe... Sì Quanti l'ha fatto in nervosire di filosofi Però era divertente Alla fine discutere con loro Comunque Era buffo Chiacchierare con i filosofi Perché alla fine Uscivano sempre bei discorsi Specialmente da fatti Non che io l'abbia mai fatto Assolutamente Sia chiaro Non è mai successo È un racconto Che mi è stato Detto Da un mio conoscente Io non ho mai Toccato Una canna in vita Quando tutti festeggiano Per la morte di Matteo Massina Denaro Ma entra in scena Come suo successore Mattia Palermo Soldi Mattia Palermo Soldi I tram Grazie per gli otto Mattino Grazie per i sam Ti sei mai fatto? Assolutamente no Io sono totalmente contrario All'utilizzo di sostanze psicotrope Di qualsiasi tipo Bambini Mi raccomando Non vi drogate mai Non bevete Non fumate Fate solo Sesso protetto Dopo il matrimonio E solo nella fica Perché se no Nel culo No Siete tutti No Quindi mi raccomando Per favore Rispettate Volevo fare il canale Volevo fare il canale Politicamente corretto Capito? Volevo fare il canale Il canale Family Friendly Sì no che c'è un problema Perché bambini non scopate Volevo fare il canale Family Friendly Capito? Anche se normalmente avrei detto Bambini Mi raccomando Ragazzi mi raccomando La prima volta Sbagliate sempre buco Così vedete quanto lei È predisposta a darvelo Nel dubbio Perché così Metti Metti che non l'ha mai provato Ma poi le piace Avete fatto un affare Voglio dire Tanto la prima volta Volete inventarvi la scusa Eh ho sbagliato L'ho fatta apposta È successo È scivolato lì Volevo Metti che dica Sai che non è male Eh vedi Bisogna approfittare Quindi Allora Non ci crede nessuno Ah è ovvio Non sono credibile Non sono politicamente corretto Io non sono assolutamente credibile Quindi Voglio dire Il tuo cazzo Fa un suono Quando diventa duro Porca droga Sarebbe un problema Sarebbe un problema Sa ogni volta Che ti vedi il pisello dritto Ma sto suono Sarebbe un bel problema Io te lo dico Ti sentirebbe tutto lì Ma sto suono Il vicino di casa Oh ad Andrea È venuto il cazzo dritto Avvisiamo il vicinato Avvisiamo tutti gli altri maschi Che siamo pronti All'accoppiamento Quindi Le femmine Sono tutte nostre Assolutamente Sono tutte nostre Tutti gli altri maschi Devono levarsi dai coglioni Quindi Tutte le femmine Sono tutte nostre Assolutamente Che poi ci ho fatto caso L'altro giorno Io sono veramente Tanto possessivo Non dovrei essere Così possessivo Sono un sacco Ci pensavo L'altro giorno Ci pensavo Non so perché Ne parlavo con nome Ho detto Le papere sono mie E lei Tue Io dico Sì sono mie Vaffanculo Sono mie le papere Sono tutte mie Vaffanculo Sono un sacco possessivo Per le cose Che mi piacciono Me le prendo tutte Sono tutte mie Vaffanculo Sono tutte mie Nessuno può averle Avevano entrambi torto President Obama Will go down As perhaps The worst president In the history Of the United States Exclamation point President Obama È stato Dimesso Go down Oddio Sì Come il peggior presidente Nella storia degli Stati Uniti Da Da real Donald Trump Il tweet Grande Obama Almeno io sono stato dimesso Come pelda Da presidente Grande Obama Mi è cretino Vai levati Nella Obama Ce l'ha la cartola Obama ce l'ha la cartola Ce l'ha un sacco Ce l'ha un sacco La cartola Da persona simpatica Quello sì Quello sì Assolutamente Prof Porco di Prof Sei pro Contro l'aborto Io Assolutamente contro Che carino Tiene la vita Dei bambini No Semplicemente Non si dà La possibilità Di scegliere Una donna Ha ragione Effettivamente Non l'avevo mai vista Sotto questo aspetto Effettivamente Ha senso Ora che ci penso Anch'io potrei cominciare A diventare contro l'aborto Solo perché così Levo della scelta Le donne Effettivamente è vero Non l'avevo mai vista Sotto questo punto di vista Però è un'argomentazione Interessante Non avevo mai trovato Una singola argomentazione Che avesse senso Per le persone Contro l'aborto Questa ce l'ha Questa ce l'ha Effettivamente Questa effettivamente Ce l'ha Perfettamente senso Oh mio dio Che ho D'altro canto La persona Stronzo Assolutamente D'altro canto Per ora La persona Che è più Contro l'aborto In Italia È il Pre ministro Degli esteri Messicano Che lui Lui Più bambini Nascono in Italia Più fa i soldi Perché i padri Possono scappare Che ne voglio dire Lui è il primo A essere contrario All'aborto In Italia Perché sai quanti soldi Fa il Messico Grazie a tutti gli italiani Che scappano in Messico Sì sì assolutamente Lui è il primo Che è al contrario Totalmente Il presidente Del collegio Su Maria Sofia Ho visto i filmati Ma non ci crede nessuno Dai ma non diciamo Cazzate Questa notizia È falfiffima Questa notizia È falfiffima Notizia è falsissima Non ci crede Nessuno Che testa pelata Abbia visto I filmati Lì Di cosa Qui Di pelo girl Non ci crede nessuno Guarda Sarebbe stato divertente Vedere la reazione Però Con gli occhiali così Minchia Però È proprio brava A fare Che cazzo Non lo so A fare quello Che sta facendo Pelo girl È lei Che si teneva La boquette Sulle gambe È che Voglio dire Guarda fino alla fine Ciao il copyright Ah sì La conoscevo L'abbiamo già vista Questa qua Che cascano tutte le cose Abbiamo già vista Adesso si è anche depilata Se non sbaglio Quindi Lui Cos'è quel coso Lui Interessante Questo documentario Sull'accoppiamento Delle scimmie cappuccine Cos'è quel bozzo Che è sulla fronte Niente Cala e cresce A seconda delle sub Che fate Più sub fate Più diventa grande Capito È così che funziona Dovete fare Molte più sub Così diventa Molto più grande A un certo punto Quando diventa Molto grande Scoppia Ed esce una copia di me È così Io mi clono Per partenogenesi Mi clono Per mitosi Come i batteri Vengono Mi creo Delle mie copie Continuamente Dalla fronte Escono fuori Mi creano delle copie Allora Sono